Abbiamo famiglie da difendere, botteghe da difendere, case da difendere. Qualche settimana fa ero andato alla manifestazione per la sicurezza a Vicenza. C'era il sindaco sceriffo, Gio Formaggio, il governatore Zaia, che iniziava proprio qui, la sua campagna elettorale, accanto a lui, il benzinaio Stacchio. E c'era anche il segretario della Lega, Matteo Salvini. Ognuno ha il diritto di difendersi come vuole, quando vuole e dove vuole. Ad ascoltare sotto il palco, uomini e donne di tutta l'età, e tra loro, anche Daniele. Vai fuori la sera, hai sempre paura di trovare qualcuno che o ti dia una coltellata o che so io. Cioè tu vorresti il portodarmi? No, io ce l'ho il portodarmi. Tu ce l'hai? Io ce l'ho il portodarmi. Così giovane? Eh, ho 23 anni, ma ho il portodarmi. Tutti e tre ce l'abbiamo, io sono proprio più giovane io. Da quanti anni hai? 18 io. Che armi avete? Beh, io ho fucili e pistole. Sapere che un ragazzo di 18 anni, che c'è il portodarmi, magari abita vicino a casa mia, a me, non è che è proprio mi tranquillino. Perché? Alla fine, io abito in un quartiere, siamo 30 famiglie. La gente mi ha detto, beh, almeno sappiamo che qualcuno può difenderci. Le parole di Daniele mi hanno incuriosito così tanto, che sono andato a Schio, nel cuore del Veneto, dove lui, disoccupato, abita con mamma e papà. Ciao Daniele. Ciao. Queste sono cartucce già sparate, Caipro 12, Caipro 22 è molto piccolo. Invece questo è un 3,57. Magno. E questo? E quello è un tirapugni. Non l'hai madrizzato? Ma l'hai madrizzato. Però, non si sa mai, non è la vita. Cioè? Là fuori, cioè, là fuori è una giungla, quindi può capitare di tutto. Ma avete un gruppo, è vero? Cioè, avete tutti questa passione spiegata per le armi? Sì, abbastanza. Abbiamo anche i radio, qua. I radio per comunicare, sempre. 07-04, mi ricevi il interrogativo? Non credo, però mi ricevo. Cioè, questo perché cosa utilizzate? No, di solito quando andiamo a Mario la sera, che ci improvvisiamo a fare le ronde, abbiamo sempre la radio. Capita qualche sera. Ah, perché fate pure le ronde? Sì, qualche sera sì, che non abbiamo niente a fare, beh, andiamo, diciamo, facciamolo, tanto non ci costa niente. La parte più sicura della mia casa è proprio il mio letto. In caso di bisogno, c'è sempre questo. Cioè, ma te lo tieni lì sul letto? Ma perché c'era la televisione, oppure perché proprio lo tieni sempre là? No, 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 sempre io. Ce l'ho messo lì per noi. No, 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 ti faccio vedere un'altra cosa. E a che ti serve? Eh, non si sa mai, né a vita. Qua sotto ho anche il coltello, in caso di bisogno. Allora, io tiro il cassetto dentro la sua scatola. Allora, questa è una Kaibro 22 Colt. Scarico, ovviamente. Questa è una semi-automatica. Caricatore inserito. Carello. E l'arma è pronta a sparare. Se arriva uno da qua sopra, quanto tempo ci impiega a caricarla? Fuori. E l'arma è carica. Basta fare così. E l'arma è disarmata. Ma questo fa male? Sì, può uccidere. Ma perché c'è questa minaccia effettiva, secondo te? Beh, minaccia effettiva a me proprio no, però con tutti i furti che ci sono in giro e quindi la necessità di avere un'arma in casa e proprio all'estremo difendersi, per me è la prima priorità. Come ha detto Salvini, se devi mettere in conto che se entri a casa mia in piedi puoi uscirne disteso. Cioè quindi tu ti stai tenendo, sei pronto nel caso in cui? In caso in cui una minaccia effettiva arrivasse per far male a me o ai miei familiari, io sono pronto. Preferisco andare in galera, però quello che entra non esce vivo. Ecco. Allora, partiamo da una pistola. Questa è un revolver 357 Magnum. Una Magnum? Sì, un revolver. E qua la qua. Ma che ci fa con questo? Beh, con questa ci puoi andare anche a caccia. In America vanno a caccia con questa pistola qua. Questo è un Mosin Nagant russo, originale. Questo, allora, lo disarmi, apri il turatore, adesso ho il salva percussore su. Lì ho le cartucce, adesso ti faccio vedere che si risparla. Poi lo riarmi, prendi la mira e spari. Questo arriva fino a agitata di un chilometro. Questo poi, vabbè, ho una pistola a salve. Fa casino. Puoi spaventare i ladri, benissimo. Prendi la mira e punti. Oh, cazzo. Spari. E questa è la salve. Il tuo padre? No, no, no. Il mio vicino. Tu ti sei mai immaginato come potresti ammazzare una persona che entra qua? Sì, sì. C'è di fantasticarci. Sì. E come te lo immagini? Beh, dipende tutto. Se mi entrerà a porta, la prima cosa che farei al momento è di sparare in testa, con colpe in testa dritto. Quando ti ho preso qua, parli più. E ogni tanto mi immagino, sono lì a letto, pensare, magari senti che rumori. Quindi di questo mi è capitato più di una volta estrarre l'arma, aspettare. Adesso se vieni su, paghi. Cioè perché avevi sentito qualcosa per strada? Sì, sì. Più di una volta a cane, ai sei mattina, cinque mesi, mi tocca aprire perché sento rumori fuori. E tu ti metti fuori e aspetti? Aspetto. C'è diretti lì al balcone? Sì. E aspetti? Aspetto. Un po' come in guerra, si aspetta, come il cechino. Aspetti che qualcuno si presenti e poi sono cazzi amari. Aspetto.